Riaprire tutto quello che si può riaprire, riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali, quindi aprire, 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 tornare a correre, tornare a lavorare. Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici dal sanitario alle forze dell'ordine ad alimentare, per ripartire sani tutti insieme fra poco. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS